Desiderio d'infinito, cosa conta davvero nella mia vita? Con questo titolo, la Scuola Comunale di Musica Mabellini, Giovanni Fighera, è stato ospite di una delle conferenze in musica proposte nel ciclo di incontri realizzato dall'Associazione Culturale Tugruv Pistoia. Insegnante liceale di italiano e latino, giornalista, collaboratore in numerose trasmissioni radiofoniche da Radio Vaticana a RAI Radio 1, il professor Fighera è autore di diversi libri, uno dei quali, La bellezza salverà il mondo, dà anche il titolo alla rassegna di Tugruv Pistoia. Perché la bellezza salverà il mondo? Perché la bellezza cattura, la vera bellezza è quella che ci permette di inoltrarci nell'avventura della vita, nell'avventura della conoscenza, nell'avventura della scoperta della realtà. Ad esempio, per me che sono insegnante mi rendo conto che il metodo fondamentale per introdurre un ragazzo allo studio, può essere lo studio della letteratura, lo studio della commedia, è senz'altro quello di far percepire la bellezza che io ho incontrato. Quindi i ragazzi sono sempre colpiti dal fatto che un docente si sia innamorato della Divina Commedia, piuttosto che di Leopardi, piuttosto che di altre opere belle. Potremmo dire che la vera bellezza è il metodo, come dicevano gli antichi, come diceva anche San Tommaso, il metodo per arrivare alla verità. E oggi è importantissimo riscoprire la bellezza, perché spesso si considera la verità come qualcosa di noioso, ma perché è stata separata la verità dalla bellezza. Bisogna ritornare a percepire come la bellezza è anche buona e la bellezza è anche verità. Bonum, pulcrum e verum coincidono. E allora quando uno coglie l'aspetto della bellezza e della verità, ecco che rimane affascinato e inizia anche a mettersi in moto. La bellezza è quella che ci permette di rialzarci quando noi cadiamo. Non è importante nella vita che siamo noi bravi, perfetti, ma l'importante è avere qualcosa, guardare quel qualcosa che ci permette ogni volta di rialzarci. E la bellezza ci dà proprio quell'entusiasmo e quella speranza che ci ripermette ogni volta che sbagliamo e cadiamo di ripartire. In un'epoca di relativismo apparentemente almeno imperante, lei ha dichiarato che la prima domanda che viene dai ragazzi è una domanda sulla verità. Certo, ma questa è un'esperienza che uno fa anche come genitore. Quando racconta ai propri figli una storia, subito i figli chiedono ma questa storia è vera? Oppure è una storia che ti stai inventando? Perché per un bambino è fondamentale nella crescita capire ciò che è vero e ciò che invece vero non è. La domanda di verità è costitutiva per tutti noi e coincide con la domanda di qualcosa che possa essere duraturo nel tempo. Tanto è vero che l'altra domanda radicata nei ragazzi, soprattutto nell'età dell'insegnamento delle superiori, è esiste un amore vero, cioè un amore che possa durare nel tempo. Allora, io sono certo che il relativismo di suo non sia proponibile, in quanto il relativismo propone qualcosa che non è per tutti ed è qualcosa anche che non può durare nel tempo. Ma l'unica cosa certa è che la verità esiste. La verità esiste perché, sono solito dire ai ragazzi, l'aldilà o c'è o non c'è. Il problema è quello di arrivare ad una sicurezza, ad una certezza su questo, così come se una persona ha commesso un delitto o l'ha commesso oppure no. Quindi la verità è certa. Il problema dell'epoca contemporanea è che spesso si sono persi gli strumenti, si è persa la strada, il metodo per arrivare a raggiungere la verità. Ma la verità è quello che noi desideriamo, perché è l'esperienza nostra. Quando noi amiamo qualcosa, desideriamo che questo amore possa durare per sempre. E se non ci fosse questa idea del per sempre, questa idea del posso stare sempre con te, allora ecco che quel rapporto noi lo percepiremo non come vero. Ciò che amiamo vogliamo che sia per sempre e quindi che sia vero. I ragazzi che hai incontrato nella sua esperienza si pongono il tema della fede? Diciamo che sono animati da domande esistenziali profonde. Allora direi che il tema religioso, la domanda religiosa che si configura in tante diverse forme come quella del che senso ha la vita, che cosa ci sarà dopo, perché sto al mondo, esiste l'amore, ho dei talenti. Le domande sull'esistenza sono molto radicate. Spesso il contesto culturale, il contesto sociale in cui i ragazzi vivono è un contesto che tende a far percepire loro come la fede non centri nulla con le domande che loro hanno, con la vita che loro hanno. Ma niente di più falso, perché la fede nell'esperienza che uno vive è sempre una eredità, un'eredità che uno prende da testimoni che sono credibili. Per cui l'incontro con persone che ti propongono un cammino, che ti propongono e ti fanno vedere uno sguardo diverso, ti propongono e ti fanno vedere anche un'ipotesi culturale, un'ipotesi di vita diversa, è sempre un incontro che riapre l'umanità. Ecco perché la fede ha a che fare con l'uomo, ha a che fare con la cultura, ha a che fare con la vita, perché permette all'uomo di guardare la realtà, di guardare la propria umanità, di guardare il proprio io con uno sguardo che è più pieno, che è più umano. E allora ecco che i ragazzi nel momento in cui incontrano un'ipotesi di fede come quella che era dei primi apostoli, cioè un'ipotesi in cui uno incontra un testimone, un testimone di Cristo, ecco che i ragazzi spesso rimangono affascinati da questo tipo di percorso, cioè da una fede che abbia a che fare con la ragione, da una fede che abbia a che fare con la bellezza. E quello che dobbiamo riscoprire oggi è proprio il fatto che la fede cristiana, la fede in Cristo ha a che fare con la bellezza della vita, perché Cristo è l'essere, è il Dio uomo, è ciò che di più bello uno possa incontrare, perché ti rispalanca tutto l'umano, ti fa riscoprire la profondità di essere uomini.